Dopo aver studiato canto lirico a Teramo, si trasferisce a Roma nel 1944 ed inizia ad esibirsi con il nome d'arte di Maria Stella al teatro Manzoni. Presto, grazie al successo ottenuto dal vivo in locali come la Rupert Arpea o il Jackie Club ottiene il contratto discografico. All'inizio viene fatta credere, dalla sua casa discografica, spagnola, ed incide alcuni dischi di canzone in spagnolo, anche quando viene ingaggiata come cantante dell'orchestra della Rai di Torino. Si presenta negli spettacoli televisivi vestita da spagnola. Negli anni seguenti, pur incidendo in italiano ed anche, spesso, in napoletano, verrà creduta ancora da molti spagnola. Collaborerà, tra le altre, con l'orchestra del maestro cinico Angelini e con quella di Mario Migliardi. Incide per tutti gli anni 50. Per molte case discografiche, partecipa al Festival di Napoli 1956, in cui presenta Piccerella in abbinamento con Claudio Villa e Giacomo Rondinella. Pota, po' con Aurelio Fierro, abbinati a Franco Ricci e Pina Lamara La Palumella. Anche questa con Fierro, abbinati ad Antonio Basurto e Grazia Gresi. E tre rose rosse, abbinata ad Antonio Basurto. Dopo aver conosciuto il maestro Franco De Paulis, a cui si lega sentimentalmente. Abbandona lentamente l'attività di cantante dedicandosi a quella discografica. Con De Paulis fonda la Lord, con cui lancia Paolo Mosca. E la Magic, per cui incidono Lolita e Solidea. Inoltre i due rilevano parte della Vis Radio e, nell'ultimo periodo, la Car Jukebox di Carlo Alberto Rossi. Alla fine degli anni settanta si ritira a vita privata. Nel 2001 ha vinto il premio Pagliotto d'Oro. Assegnato dalla città di Teramo.